Come si chiama sta scena? Ciccina, invece quella è Rosina, ah Ciccina e Rosina, Ciccina e Rosina. Signor Rossitto, qui siamo con il signor Rossitto, venga all'ombra che ci vediamo meglio, come è di nome? Salvatore, Turirio, ah Turirio, vediamo un po' perché, ah ecco Turirio, ma sento alcune pecore hanno delle campane, ma perché alcune sì alcune no? Perché non hanno potuto mettere le campane a tutti, ma perché ci hanno messo proprio a chieste? Perché erano più, oppure così? Ah prima che ci è capitato, non è possibile che proprio ha dovuto fare una scelta, no? Ma c'è tu che scegliamo, mettiamci quella qua per dire chi rega figlia è più debole, chi rega non figlia è più... Ah, vedi che c'è allora la motivazione. C'è la motivazione, qua noi qua ci ne mettiamo poco, certo qua ci mettiamo a tutti. Tau, suo papà? Ah, il cattavo, il cattavo con il cattavo con il cattavo, se non andavo a Vustralia. Sì? E allora i campane ci dipigliato, e ci paghavo una cusiera, non c'era, è vero. Ma poi erano rinnovate, perché non pavano... Ma un cattavo di campane, una fiera di Santa Sofia, c'era a Sortino. Mi pare che c'era a Sortino, ma a Sortino c'era uno che faceva come la buon'arma di carpintere, no? C'era un cattavo. Tu ricordi al carpintere? Comparpolo. Ah, un cattavo. Ma che tu non è che faceva campane? Che tu faceva? Il cattavo. Ah, il cattavo. Il cattavo. I campani andavo a prendere il fiume freddo. Ah, direttore. Il cattavo. Ma quindi facevi i cattavo e poi ci mettevi le campane, perciò vendeva il prodotto finito. C'era? Certo, questo è il cattavo con un cattavo. L'ha fatto fin da bambino il pastore? Cattavo. Ma il suo papà era pastore pure? Mio nonno era pastore, mio nonno era pastore, Rossitto Antonino, Irpino, la generazione di pastori era? La generazione che veniva dall'Irpinia, è vero, ecco perché è irpino, ha fatto sé da bambino, ma a scuola c'è andato però? C'è andato fino a che avevo 11 anni, fino a che avevo 9 anni, a terzo non la passai e poi mio papà aveva un bicciotto che era torto Ah, un bicciotto torto, aveva un bicciotto torto, avvicinati così si sente meglio Avevo un bicciotto che era torto, noi andavamo si giugno, una tina per le amate, una tina per le piacere, un mio figlio e ho compato E quindi l'ha ritirato da? Io era tanto eh, di 9 anni, un fratello gemello Ah, un fratello gemello? Il gemello è morto, appena nato No, per le amiche Ah Perciò ero troppo piccoli Ma non io moro, io del mio mistero Ma lei era contento che non andava a scuola? Si Ci piaceva però Si, ma lei che animo aveva? L'animo aveva perchè mi diceva mio papà Papà mi ci porti il campagna? Papà mi ci porti il campagna? Ah, perciò eh Quando poi è nato bene, partiamo Ma poi l'aiutava nelle vacanze per esempio, anche quando andava la seconda Nelle vacanze, la sera quando levavo la mano con la scuola, quando ci andavamo il pomeriggio Ah Allora, niente, ma quando ci andava di mattina Eh A manziorno, me la stava a scicca, rinza, rinza a stalla Si Avanti, metti la camera a scicca e bene a cugno peluso Ah, a cugno peluso Magari che arrivi, non c'è bisogno Ah, arrò Una buona volta Eh? Ci sta una cosa che arrivi Eh, beh, io sono bello Una bella volta Da Poi ti va a dire, c'è tanto Eh Mi si è a cavare un gruppo lasciato Ah, a cavallo, a cavallo Ha cavato un gruppo, perchè c'erano un gruppo Ma perchè c'erano un gruppo C'erano un gruppo C'erano un gruppo C'erano un gruppo Ah, ho capito E io mi tenivo un nuovo gruppo Ah, ho capito Dovarduni si dice un gruppo Il gruppo Ancora nelle vacanze Sì 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 Lo Sì Sì No, non mi sembrava, non mi sembrava, ma moro tutti e faccio due ore qua. Ness, niente, non ti spagnia, ora tu caro la secca, di linee, di linee rosse. E' qua, c'è il pò mandare, ti non vedi pò mandare, non è la mano, 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 non è la mano. Ah, la mano era... Non è vero che tu scrivi, magari la secca ci mi sono pochi linee rosse, in givertole, e poi... Per non fare... Per non fare... In gruppa, in questo caso, poi sopra le linee, sempre un gruppo. In gruppa, e le linee erano visite. Ah, laterale, così, si, si. Per un gruppo, e per una casa. Arrivato l'ordine, unicolo, piglia, e sento... Cagliano i terreni miei, perché io andavo a cercare, mi camminavo a leggio, perché io ero piccirino. Ah, 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 ah... Era io che mi buttava, non lo buttavo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ragionmo, eh, per... Se... Se torna, io piocavo il caffè, veniva, pure, a fuori, a fuori. Ah. Tornai, al giacca voleva tornare a chianare, non voleva tornare. Ah, 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 ah. Ragionmo, e poi si è riducito il piaccio, ecco. Ma parcia, se va un'è stato qua giù. Andrano, mi aiutino pure a parte. Ma sei l'igno che ti ha dato. E mi ha dato un po' il piaccio. Guarda. Ora c'è un conto, ne avevo già il primo anno che è partito con questi piaccio. Cioè, riterrato dalla scuola. Era nel mese di febbraio, questo. Il mio papà, io ero le due. Dicevo, sai che fai, guarda, ho fatto, ci faccio lì. Oh. Intanto ti faccio ogni ligno, parro, cotta, un po' fucolaro. Un po' fucolaro. E un po' forno. I fraschi. I fraschi. Sia fraschi che ero. Eh, dicevo, guarda, ti faccio ogni ligno, ti carichi e ti porti. Io ero al Cugnicello. E' un neocugnicello? E' Cugnico? No, mascaluccia. Ah, Cugnacello. No, non è cugnico. Però non mi ha lasciato. Ah, sì, ti faccio lì, non mi ringo. E' un po' inizio, però non mi ringo. Ah, tu ti raccogli. E' un po' inizio, perché no era il cugnicello. Ah, ma di noi volevo appunto, che scopociata la ura. Ah, la ura. D'un po' inizio. No mi ringo mi, un misteriero. Mi ringo, diciamo. Un beladamico. Sì, sì. Perchè c'è un po' inizio, parro, di da poco un piedra. Che c'è, la cugnicello. io ti la voglio lasciare, un creatore di 9 anni di 9 anni, un creatore ora vanno un bambino, adesso che prendiamo la saccola io ho usato, i ligni ci hanno usato tutto sotto la panza sotto la panza? aggiravano qua, o sotto la panza? ci ho usato, guardate, tutti lì quando io ero così, a mio padre avevo cacucciato non c'era più cacucciato che vuol dire? avevo speruto mi piace, l'avevo portato da un'altra parte cacucciato io ora, come ho caricato? qua ho caricato i 9 anni e come ho caricato? la cacucciato perché la cacucciato non si può trovare qui era un palato mentre ho passato avanti e parto quasi dal rio cimiteo in alto c'era il rio cimiteo a cacucciato? a cacucciato, ma non si poteva muore perché ci aveva caduto il gelino sotto la panza ma non poteva camminare? non poteva camminare ma in cerca d'aiuto ma non c'era questo cristiano ma sta riuscita ma non c'era 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 ci ha contato tutta la cosa? ma non c'era ma che vuole? io finito in girare che era da sotto e da sotto non c'era non c'era ci ha già sbalizzato a 9 anni a 9 anni mi scrivono in girare che era da vicino non si accutta ma se non ci si partiva io non si accutta ah non si accutta non si accutta non si accutta proprio non si accutta non si accutta ma non si accutta e se spagnava non si accutta ma non si accutta ma non si accutta ma non si accutta cominciava nel tempo con l'aneggia picchierola lì si fa parte picchierola trovava l'aneggia perciò l'aneggia c'era anche quando era piccola lei? ah c'era l'aneggia io invece pensavo che da quando c'era la zona industriale a Priolo c'era l'aneggia sempre allora e allora io partivo io partivo io eravamo dentro di un'aneggia e tu non mi hai chiesto tu non mi hai chiesto ma non mi hai chiesto e qui è quando mi passiamo a chiesto con la calatrice non mi hai chiesto basta arriviamo già arriviamo già e io trovo la macchia carregata e ciò qua carregava e qualche modo un puccello ti chiesto già cammino a monte su sangio perché io credo come ci chiesto mi hai chiesto mi hai chiesto mi hai chiesto che tu hai visto che questa po' vuole la macchia e lo ha scarregato ha scarregato e ha fatto su se lo era e lo ha scarregato e lo ha scarregato come c'è puccello ah era già non è che l'aveva caricato se ne era andato no era già mi hai chiesto mi hai chiesto guarda questo figlio comparecenzo che piangeva e ci ha caricato e c'è una creatura è venuta è venuta vicino al cimitero a cercare il mio che si appogliava il lavoro va bene va bene quindi poi lei da ragazzo ha continuato questo mestiere ma poi non gli dispiaceva che aveva lasciato la scuola però poi a 10 anni a a 11 anni mi hai scritto a scuola ah perciò ci teneva ad andare a scuola ci teneva perchè ho restato nel ruolo capiva capiva che a scuola si a scuola si un maestro se non io piccolino non mi vuole scrivere ah perchè era per il grande a scuola a meno di 15 anni ah a meno di 15 anni o 14 anni non mi ricordo e se allora frequente ah frequente frequente lo stesso poi vediamo poi vediamo mi tiene appennuto tutto l'anno ah tutto l'anno ciao domenica mi tiene appennuto tutto l'anno domenica si appennuto tutto l'anno ma quando fu che ci fu l'esame chiamavo il direttore ci abbiamo questo ragazzo purtroppo la scuola non ci ha potuto andare stava facendo la terza ripetendo la terza ripetendo la terza ripetendo la terza c'erano 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 per esempio mia nonna erano e si ebbe a quei tempi certo ma poi una volta ha fatto l'esame c'erano andata la pagella della terza poi lei basta si è accontentato o no? poi è andata la quarta è andata la quinta sempre di sera sempre di sera ma cosa faceva? la mattina si sussiva presto penso e quattro e quattro e quattro di casa si sussiva a casa andavano a mungere a una manna e poi facevamo la ricotta buttavamo il latte nella cassa della ricotta dove la facevamo si ma la facevamo la ricotta ma venivano nei fasce oppure quella no venivano con la cazzalotta ah si che io quando ero piccolo con la cannata con la cannata con la cannata così via accostiamo ma presto perché noi poi andavamo a scuola alle sette e mezza erano scennate ah alle sette e mezza erano scennate si si e quindi poi c'erano i clienti che arrivavano questa cosa o sera la ricotta 10 lire 20 lire dipende 10 lire dipende poi fatta la ricotta penso e poi sbocchiavamo con tutti i pelli ci portavamo i cani i cani la manna la manna con i vergi ah i vergi che cos'è i vergi che porta i sicchi nella spada ah 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 si chiama i vergi ma lei ce l'ave ancora ancora mi piacerebbe quella è una cosa cinese i cinesi portano queste cose ma che c'era un sicchio del cane o un bidone chi è che c'era un sicchio davanti a darriere ah davanti a darriere un sicchio gli facciamo pieni 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 di latte di latte io chiamavo da la cianaterra di sotto pizzeranno 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 certo certo dopo c'era una cianaterra la manna nostra c'era una cianaterra poi la mia pagina c'era il latte non ci carino questo per chi? perché un muncivolo poi a non portare una casa da ricotta che era in paese proprio penso poi già cucolavamo facciamo il latte riscaldavamo e poi facciamo il latte e quindi va bene perciò la sua vita è stata dedicata alla pastorita arrivando a 1958 eh mio papà mi pigliavo questa cabella ah questa cabella qua siamo siamo nella terra di di Annello di Annello buonanima era del Cavaliere Sortino ah prima era del Cavaliere Sortino non di Annello no no ah e ci ho stato io 18 anni a mano del Cavaliere Sortino lei è suo papà lei io e mio papà oppure la pigliavo per lei la pigliavo per lei lui ancora ma cattavo due acce ah due acce ma cattavo io ci andavo a chepere con il mio frate ah quindi in qualche modo poi lei è andata avanti da solo da solo avevo la masseria poi mi faceva la masseria ma era già sposato no era più duro 16 anni ma qualche giuvaterra avevo o faceva tutto da solo tutto da solo tutto da solo poi c'era l'amico e lui diceva no doveva seminare così ah ma perché oltre a avere i pecore ma perché seminavo ma seminavo un frumento tanto tutto quello con il frumento questo frumento tanto se prendiamo questa tabella per seminare la campagna ah non solo per far pascolare come pascolo per pascolo quando non si seminava c'erano i pecore e poi nei restucci poi nei restucci poi c'erano i restucci eh perciò aveva fatto carriera allora e ho fatto carriera poi fino che mi sono sposato ah e ho fatto il seminato avevo anche 10 anni 12 anni avevo fatto il seminato poi il seminato cominciavo a muore e certo perché non valeva il frumento e andato poi i prezzi sono diminuiti a mio papà che aveva un po' male a te e io mi avversari che pecora ah perché la pecora è più più denerosa della vacca ah è più malavitosa certo ah e beh è più malavitosa mio papà mi andava a pigliare terreni a pascolo verso Augusta ah verso Augusta a Capote si e allora i figliare cominciamo nella strada c'erano giardini c'erano ortaggi e come ci arrivavano ora da Augusta con il camion a perere a perere l'incappavo un po' davanti ah quindi alla prima volta ci abbiamo mostrato un giorno un giorno ma che facevo la strada per la villa smonti le cannezzole e poi per cui siamo o tanto o tanto io avevo i cannezzole ma manco trazzera ah viola perché la trazzera arrivava a San Martino ah arrivava la trazzera arrivava a San Martino poi era tutto viola e lei suo papà suo fratello oppure? tutte e tre e i vecchi che aveva qua? poi li veniamo e la gabbella l'ha lasciata? no non l'avevamo lasciata la gabbella poi andava a scuola che era mano a mano poi il nino i sortino i sortino che dicevamo sortino fusco ah sortino fusco si 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 e io stavo al 76 stavo a Bocatoia Nello e quindi lei era già lì io eravamo qua il mio papà con Bocatoia Nello era buono il rapporto io ci mangiare e dare a Napoli io ci restate con gli altri ma oltre alla terra avevate un pezzo di casa a casa avevamo una casa paglia un stallo nero tutto questo io a casa la ricotta l'avevo fatto io fai qua e che adesso poi la vediamo prima di andare via va bene perciò poi la sua vita è stata così poi ha avuto figli poi mi ero sposato nel 1968 68 avevo il 27 anni eh lo stesso anno che mi sono sposato anche io non avevo il 27 anni ma ogni anno nell'anno del 27 mi ero sposato mia moglie ne aveva 25 eh ma è giusto mi ero sposato abbiamo avuto 4 figli io venendo la ricotta Augusta stanno con la motocicletta ah con la motocicletta e la cassetta di legno dietro e i cavalli poi all'80 la motocicletta dai dai eh e che si pigliava perché è male il tempo gli acqua gli acqua gli acqua gli acqua gli acqua mi ero sposato poi ho messo io nella ruota ci voglio i cavalli e c'erano le cavalli e così le cavalli e mi mettevano in un posto mi mettevano arrivavano le resi mi aspettava un agente mi trovavano 15-20 persone che aspettava un mattino il carrozzato e mi diceva stai venendo lo stai passata su che cavalli quei cavalli che facciano tutti ah cavalli no i cavalli prima con la motocicletta Ah, con la motocicletta, con la macchina invece. All'80 poi esce i fascii tutti, di mezzo chilo. Ah, mezzo chilo. Ma quelli di plastica? Ah, di plastica. E così poi, quando ne vado, e vengono tutto quattro assieme o due minuti. No, 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 no. No, 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 no.